Salve carissimi amici, tutto ben bentornato nella soffita di camera mia. Continuo la collaborazione col Paperpedia Wikia, una wiki interamente dedicata all'universo Disney. Se volete degli approfondimenti su questo universo o se volete ampliare le pagine della wiki, vi lascio il link in descrizione. Quest'oggi parleremo, come si è intuito, di un qualcosa di Disneyano, in particolare di un albo che avevo già detto, e avevo già consigliato facendo un video consigli, non avendo ancora avuto modo di leggerlo, in particolare The Best of 2016 Topolinia, una selezione delle migliori storie del 2015 legate all'ambiente di Topolinia. Si era stato un gemello poco tempo prima dedicato all'universo di Paperopoli, altro volume che vi avevo consigliato. Questo volume qui, nonostante sia passato più di un mese dalla sua messa pubblico in edicola, l'ho trovato anche oggi, che è il 17 settembre, in edicola, per cui spero che quando pubblicherò il video sarà ancora presente, così che se vogliete potete recuperarlo. Due note tecniche, 6€ per 380 pagine circa, 10 storie di cui alcune ha puntate, sarà un video corposo per un semplice motivo, voglio dare un giudizio, per quanto molto semplice, senza troppi approfondimenti, perché se no il video sarebbe veramente infinito, su tutte le storie presenti all'interno dell'albo. Buona visione del video. Ogni tanto guarderò sotto, perché non ricordo il nome degli autori e tutti i nomi delle storie, quindi quando guarderò sotto è perché sto guardando effettivamente queste informazioni qui. La prima storia è Topolini e mini in scoppiati, di Francesca Agrati per i disegni di Massimo Di Vita, uno dei disegnatori in campo Topolinia migliori attualmente in sede alla Disney, che ci parla di una storia molto molto semplice. A seguito di un lettigio Topolini e mini si separano e vediamo le relazioni che intercorrono tra questi due personaggi, tra questi due personaggi e gli amici, gli amici in comune, che intercorrono per l'appunto dal momento della separazione. È una storia molto semplice in realtà, non è che abbia pretese di scendere, di sviluppare questi personaggi a livello psicologico, ma risulta comunque interessante anche da questo punto di vista. Pippo e lasso dei cieli è l'unica storia di Vito Stabile per i disegni di Stefano Intini, disegnatori che personalmente non apprezzo particolarmente, per quanto lo stimo per avere uno stile diverso dagli usuali canoni disneyani, ma che forse proprio per questo non incontra del tutto il mio gusto. Ma al di là del gusto personale per il disegnatore, che trovo comunque molto capace, Vito Stabile scrive una storia molto semplice. Pippo lo conosciamo tutti, tuttavia c'è qualcuno che odia Pippo, un suo nonno misterioso di cui noi non conosciamo praticamente nulla, che sembra odiarlo fin dalla sua infanzia. Che cosa è successo? Sarà topolino a indagare per cercare di capire cosa sia realmente successo, da dove nasce quest'odio, quest'astio, apparentemente immotivato, perché insomma Pippo è un buonaccione, un buonario, com'è possibile che ci sia qualcuno che lo odi? Scopriremo la verità su questa cosa qui, e vedremo come Topolino cercherà di sistemare le cose tra le parti. Topolino, gamba di legno e ravvedimento rock di Giulio D'Antona per i disegni di Nicola Tosolini è forse una delle storie più debole dell'album, una di quelle che avrei sinceramente tolto. È una storia che ha un plot molto semplice, tutto sommato. Gamba di legno ha aperto un negozio, un negozio di musica, un bar che fa anche musica, nei dintorni, nelle banche, avvengono una serie di numerosi furti, e Topolino indaga, credendo, pensando, che il colpevole sia Pietro Gamba di legno. Ovviamente ci saranno dei colpi di scena, qualcuno forse l'ho lasciato intendere dicendovi la storia, ma per quanto sia una storia carina, non è una brutta storia che buttere via perché è brutta, ma perché tutto sommato non è, secondo me, tra le storie più memorabili dell'anno passato. In particolar modo, togliendo questa e un'altra che vi dirò dopo, si poteva inserire quella storia di Casti, che è tutto questo che ha tra ieri, che a mio parere è la migliore storia dell'anno passato, che ahimè non è presente all'interno di questo album. La storia successiva, per test e disegni di Casti, Topolino e l'impero sotto zero, uno dei motivi per cui vi consiglio di recuperare questa storia. Casti ha uno stile di disegno molto semplice, molto, se vogliamo, gotfersoniano, molto personale, non bellissimo da vedere, ma che rende molto bene l'atmosfera delle storie che lui stesso disegna. Ovviamente, se mi capita davanti, Casti che mi fa un disegno non lo rifiuto, non è un brutto disegnatore, ma non è un Giorgio Cavazzano, non è uno di quei disegnatori che apprezzi anche solo per l'arte visiva. Casti è un autore a tutto tondo, un autore che preferisce dare rilievo alla sua storia e nell'impero sotto zero cerca di dare rilievo soprattutto ad un personaggio secondario, che è quello di Atomino Bibbip, personaggio poco utilizzato, ideato da Romano Scarpa e che ha poteri enormi, capacità disumane, essendo un atomo ingigantito. Qui dovrà risolvere un problema legato ad un mondo strano, governato da uno strano tiranno, il Conte Dragpo, che vuole portare la Terra ad una nuova glaciazione, supportato anche da uno stato, lo stato di Gelonia. Al di là di questa storia qui, è una storia molto interessante, molto commovente, è un finale che mi ha letteralmente commosso, di cui non dirò ulteriori dati, perché è una storia che secondo me merita, stramerita, che voi la recuperiate e che non conoscete troppo prima di poterla leggere. Topolini a 28.02, Cattive Acque. Questa storia di questa sottoserie che vede Topolino, giornalista, in un quartiere della città di Topolinia, che è quello proprio centrale, quello più ricco, più evoluto di tutti quanti, parla fondamentalmente del problema dello sfruttamento di chi, faccio spoiler se vado ulteriore in avanti, perché effettivamente è il colpo di scena finale, ed è una storia molto toccante, molto intelligente per il messaggio profondo che lascia. Tuttavia è scritto con uno stile, che è quello di Fausto di Italiano, che non me la fa apprezzare del tutto, che cerca, sì, di portare avanti un messaggio molto positivo, ma con uno stile comico, dove serve? Non sempre, ovviamente, dove serve, che non mi è congeniale, non mi piace il suo stile comico. Quindi, di conseguenza, le sue battute, non ho riso, ma è un problema, sotto questo punto di vista, è un problema mio, mentre invece l'ho apprezzato tanto per la denuncia presente all'interno della storia. La storia successiva è Pippo Reporter, è stata a Green Pond, di Teresa Radice, per i testi di Stefano Turconi. Forse è la più bella storia del ciclo di Pippo Reporter, che ahimè non avrei inserito qui. Non avrei inserito qui non perché sia una brutta storia, sto già dicendo che è la più bella storia di un ciclo che a me piace tantissimo. Ed è anche autoconclusiva, è perfettamente leggibile, pur senza conoscere, il contesto di Pippo Reporter. Tuttavia, con una futura ristampa non programmata, ma prevedibile, a breve, si parla di febbraio o forse aprile 2017, inserirla anche qui mi è sembrato forse eccessivo. Di che cosa parla brevemente questa storia? Pippo viene, siamo negli anni 20, per chi non lo sapesse, Pippo fa il giornalista per il Morning Blot, un giornale governato, preseduto da Macchia Nera, prende un periodo di vacanze, si reca per l'appunto a Green Pond, dove qui troverà un diario strano che parla fondamentalmente della bellezza e della vita all'aperto ed è molto molto toccante. Non scendo in ulteriori dettagli per quanto riguarda la sottotrama di Pippo, perché è molto toccante, molto sentita, va letta per essere apprezzata, e va letta con calma, senza fretta di andare avanti per vedere come continua e come finisce la storia, perché se no si perde veramente la bellezza di questa storia qui. L'altra sottotrama presente invece riguarda per l'appunto Macchia Nera e Pietro Gamba di Legno che è il suo vice, che stanno cercando di acquistare i terreni presenti nei dettorni di Green Pond a un prezzo bassissimo, provocando tutta una serie di incidenti. Vedremo come va a finire questa storia ed è tutto sommato molto toccante. Come dicevo, insieme all'Impero Sotto Zero è uno dei motivi per cui vi consiglio di leggere questo albo per quanto non avrei inserito questa storia. Si procede con Carlo Panaro, uno degli sceneggiatori che sinceramente mi piace tanto, con uno stile molto classico ma che quando ha lo sbuzzo creativo riesce a tirare fuori vere e proprie chicche. In questa storia Indiana Pips è la leggenda del capolavoro si fa riferimento a Michelangelo Buonarroti a quando costruì il suo Mosè che, secondo la leggenda si dice, che gli chiese perché non parli ad una statua tanto era perfetta così somigliante ad una persona reale. All'interno di questa storia abbiamo Indiana Pips e Topolino per le strade di Roma alla ricerca di un diario di Michelangelo che dovrebbe svelare il mistero legato al Mosè. Una storia di intrighi, una storia di un giallo archeologico diciamo così splendidamente disegnato da Massimo De Vita che trovo sotto tono rispetto ad altre storie contenute all'interno dell'albo. Non sto dicendo anche qui come al solito non sto dicendo che sia una brutta storia ma probabilmente se avessi dovuto prendere due storie per inserire tutto questo accadrà ieri avrei probabilmente tolto il ravvedimento rock e la leggenda del capolavoro. Si prosegue con una parodia ad opera di Tito Faraci di Roberto Recchioni per i disegni di Paolo Mottura dà un'idea di Tiziano Sclavi Dylan Top in L'alba dei topi invadenti. Parodia della primissima storia di Dylan Dog L'alba dei morti viventi in questa storia qui ovviamente non abbiamo degli zombie dei non morti ma abbiamo delle persone dei topi in questo caso perché siamo a Topolinea quindi abitata da topi che sono molesti sono invadenti per l'appunto. La storia tuttavia risulta essere una parodia a mio parere brillante soprattutto dopo aver recuperato e letto la storia originale abbastanza fedele con un messaggio da trasmettere che è abbastanza simile. Non un capolavoro non a tutti può piacere Tito Faraci e alcune sue gag ma una storia che anche solo per i disegni di Paolo Mottura vi consiglio da recuperare. Oltretutto i fan di Dylan Dog potranno trovare a parte il fatto che la parodia in sé per sé è un omaggio e una citazione all'universo di Dylan Dog potrà trovare diverse citazioni e diversi omaggi in qua e là all'interno delle vignette. Si prosegue con Topolino e il rampiro di Transvitania di Casti per i disegni di Enrico Faccini il rampiro colui un vampiro che ruba ram in un universo tecnologico informatico siamo in Topolino Pippo e Bruto o Gancetto in questo momento mi sfugge chi le due comunque poco relativamente poco importa finiscono in un universo videoludico alternativo all'interno del web dove l'antagonista ruba i Byte per potersi sostenere una storia fantastica che è stata pubblicata se non ricordo male l'Halloween scorso che trovo piuttosto divertente non la migliore storia di Casti questa storia a cui forse non dico è forse la terza più debole a mio parere dell'intero Albetto per quanto sia una buona storia con delle buone gag molto ben riuscita sotto alcuni punti ma ripeto il mio quando ho letto The Best Of ho subito pensato a Topolino e tutto questo accadrà ieri e non me lo sono ritrovato sotto mano e ci sono rimasto un pochettino male si conclude con Zianena Dalle Stelle alle Stalle di Blasco Pisapia pubblicata il 29 dicembre 2015 proprio l'ultimo l'ultima possibilità per poter entrare in quest'albo qui Zianena è un personaggio realizzato pochissimo tempo fa proprio da Blasco Pisapia per una serie di 3-4 storie e nonostante questo non occorre aver letto le storie pregresse per conoscere e per capire al meglio questa storia qui me la ricordavo sarò sincero quando ho consigliato quest'albo per 3-4 storie vi dissi che valeva la pena acquistarla per questa storia qui me la ricordavo più bella più romantica comunque mi sono commosso sul finale quindi funziona anche in una seconda lettura per quanto sia meno incisiva era più un non lo so quando l'ho letta la prima volta mi aveva colpito molto di più Zianena è la zia che da quando Clara Bella era piccola ha avuto in affido proprio questa ragazzina portandola dalla campagna dove viveva con un altro zio in città dove ha potuto scoprire le gioie di vivere con un parente che gli voleva bene Clara Bella prima col suo zio non si trovava bene perché era un pochettino più tiranno un pochettino più oppressore un pochettino più padre di dittatore mentre Zianena è molto più permissiva ma non per questo non è interessata alla salute e al bene della nipotina tanto che si gli compra giocattoli ma gli insegna anche diverse cose su come vivere in questa storia qui Zianena entrerà in una crisi economica grandissima dovuta ad una serie di investimenti ma piuttosto mal riusciti in coincidenza col Natale che gli porterà a vivere un Natale nella più assoluta e totale povertà cercando di raccimolare soldi per comprare da mangiare comprare i vestiti comprare gli addobbi comprare qualunque cosa per poter festeggiare il Natale riuscendoci a fasi alterne una storia molto molto toccante piuttosto classica per quelli che sono gli stilemi delle storie natalizie ma comunque ben riuscita con un finale un pochettino a sorpresa per quanto le storie Disney non sono mai realmente a sorpresa in quanto l'inizio c'è sempre l'indizio su come finiranno molte storie hanno un inizio che dà l'indizio per come finirà il finale e questa storia qui non fa eccezione tuttavia devo dire che mi ha colpito positivamente insomma un album in cui praticamente sono tutte storie a parte due o tre che forse più per gusto personale mi sentirei di dire non valeva la pena inserire in quest'albo e magari avrei inserito altre storie un album che a mio parere vale la pena da avere sia per chi vuole un po' di queste storie vicine sia per chi non ha letto le storie dell'anno passato e vuole cercare in un qualche modo di recuperare detto questo ci vediamo al prossimo video del canale ciao